Come sapete ci troviamo nelle fasi delle indagini preliminari, quindi ancora coperta da segreto istruttorio, pertanto fino a quando la procura di Roma non consentirà di accendere agli atti, non potremo prendere visione dei documenti oggetto dello scambio, valutare compiutamente la portata delle informazioni contenute nella chiavetta. L'ufficiale però era titolare di un incarico che lo autorizzava a prendere visione anche di documenti classificati, tuttavia le sue mansioni che non prevedevano attività di comando o di direzione lo portavano ad avere accesso a documenti di valutazione e policy e non alla gestione delle operazioni o al dettaglio delle capacità nazionali e dell'alleanza. Comunque vedremo, ripeto, lo sviluppo degli elementi di indagine nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, quando sarà possibile, però mi sembrava giusto circoscrivere l'attività dell'ufficiale rispetto all'ufficio di cui detenevo la responsabilità. Segnalo anche che lo Stato Maggiore della Difesa ha incaricato il primo reparto di aprire un'inchiesta formale in ossequio a quanto previsto dal Codice dell'Ordinamento Militare.